Musica Alessandra Saccoccio di Teore Marketing Unilever Food Solution Italia e Grecia Burger Battle un'iniziativa inedita con protagonista Hellmans Si è stata un'iniziativa capitata quasi per caso abbiamo incontrato i ragazzi di Landman e Nevaldi abbiamo deciso di iniziare questa avventura che sta andando benissimo tre aziende molto complementari che riescono a presentare un hamburger completo in tutti i suoi tre elementi noi partecipiamo con Hellmans che è un marchio decisamente giovane ancora in Italia ma è il più conosciuto al mondo per la sua maionese sono salse tecniche quindi che comunque rispondono appieno a quelle che sono le esigenze dei nostri chef e gli aiutano a preparare dei panini molto unici e a creare delle ricette sicuramente molto accattivanti il valore aggiunto di queste salse sul burger si sente come? si sente perché sono salse completamente tecniche per cui hanno la capacità di rispondere alle varie tecniche di cottura sono salse che non riescono a trattenere l'acqua quindi non bagnano il pane sono salse che riescono a reagire bene alle alte temperature quindi anche in cottura si comportano benissimo e poi sono salse anche un po' particolari quindi riescono oltre alla maionese, al ketchup e alla senape che tutti conoscono sono anche delle salse che riescono a rispondere ad esigenze diverse quindi con gusti particolari e quindi Grazie a tutti